Trump, da come si legge su web, potrebbe diventare il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Perché? Perché stando a quelli che sono i sondaggi, presenti qua su web, presenti qua su internet, sembra proprio che Trump ha un'altra maggioranza, o meglio, avrà il più ampio numero di voti. Quindi una percentuale alta, da come si legge qua su internet, non è nato di tenere a dire preangolo, ma, ripeto, internet è una fonte forse accreditata, o meglio, abbastanza affidabile. Sta di fatto quindi che, ripeto di nuovo, proprio Trump dovrebbe essere, meglio, dovrebbe diventare a tutti gli effetti il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. I più, non io, ma i più sostengono, sostengono, sostengono che se dovesse vincere Donald Trump alle elezioni presidenziali in America, la guerra tra l'Ucraina e la Russia dovrebbe smettere di essere, il conflitto in questione dovrebbe terminare, invece quello l'Israero palestinese continuerà. Che cosa ne pensate voi? Datemi le vostre opinioni, ci tengo ad averle, iscrivetevi, commentatevi. Ciao a tutti!